Siamo qui con Marco Novello, MVP della gara di recupero della quarta giornata, con solo Cernari Montecchio, una team at scintillante, per due set siete riusciti a non far giocare una squadra veramente molto forte come Montecchio e nel secondo siete riusciti anche a recuperare un dischietto a vantaggio, una gara che dà fiducia credo. Sì, sì, dà molta fiducia, soprattutto per il primo e il terzo set che siamo riusciti a partire molto bene già subito dal servizio e per il secondo set, anche se siamo partiti un po' in sordina, siamo riusciti comunque nella parte finale a esprimere una grande patata e a giocare molto bene. Soddisfazione personale anche per te, hai fatto un paio di turni di servizio che hanno spaccato la partita all'inizio del terzo set, subito 6-0, ma comunque come al solito una grande prestazione di squadra, grande difesa, grande attenzione sui fondamentali di sacrificio. Sì, sì, soprattutto il muro, devo dire che comunque siamo una squadra che ha un po' tocca tanti palloni, fa molti muri, quindi questo ci aiuta sempre a tenere bene attivo il servizio ed è una grande solidizzazione, soprattutto chi va a battere. Perfetto, diamo l'appuntamento ai nostri profusi per sabato, altra partita, si gioca ogni tre giorni ma con rinnovata fiducia. Grazie Marco. Grazie a voi.